Ciao Asia, ora siamo nel 2030, sono passati dieci anni dall'arrivo del Covid, quel famoso virus che silenziosamente è entrato a far parte delle nostre vite e voglio dirti che in questo periodo di quarantena riuscirai a risanarti da tutte quelle tensioni che si erano sovrapposte in tutto quel periodo e che indipendentemente dall'aiuto delle persone che ti circondano e dal loro sostegno, con la tua forza e la tua pazienza unita alla forza di volontà, riuscirai a superare ogni ostacolo. Io in questo momento sono orgogliosa di ciò che sono, sono indipendente e felice di esserlo e molte porte mi sono state sbattute in faccia ma non mi sono fermata sono riuscita ad arrivare e dunque a raggiungere i miei obiettivi, voglio dirti che la strada sarà tanta, sarà piena di dossi ma grazie all'aiuto di persone, di certe persone, riuscirai a crescere e a capire tante cose che non sapevi e tieni stretti i denti, abbi sempre il coraggio di correre e di lanciarti in ogni situazione, non aver paura di vivere non smettere mai di vivere e niente, ti auguro in bocca al lupo, un saluto e un bacione, ciao! Ciao!